Pantozzi, come tanti altri sventurati, era stato travolto da un nuovo mortale nemico, il telecomando. Era ormai come tutti un telecomando dipendente e durante una agghiacciante crisi di astinenza aveva anche stabilito il nuovo record condominiale. 380 cambi di canale in 26 secondi netti. Adesso basta! Lascialo! Te lo butto dalla finestra! Ti ammetto! Meglio la morte! Non mi porto? No, non mi porto! Non mi porto!